Borsa internazionale del turismo a Milano, la riviera dei Cedri in ordine sparso e a ranghi incompleti, cresce l'offerta di sapori e tradizioni. Il turismo e il rapporto Calabria per il 2010, il governatore Scopellitti, da quest'anno si torna a crescere. Brian Mare, il comune di Tortora, chiede al Consiglio Comunale il nulla osta per l'intestazione di alcuni terreni contesi. Per il sindacolo Monaco, un errore del catastro. Tortora, nasce la Porta del Golfo, provoco dell'Alto Tireno Cosentino e della Bassa Lucania, unite per la promozione del territorio. Lunedì 21 febbraio 2011, Pietro Nigro vi dà il suo più cordiale benvenuto all'edizione di oggi di Rete3 News. Cominciamo il nostro telegiornale parlando di turismo. Ieri a Milano si è chiusa la Borsa Internazionale del Turismo, la vetrina più importante del settore. La Calabria si è presentata, come al solito, con un vasto stand, una vasta area espositiva dedicata alla promozione e all'offerta del suo territorio. La Riviera dei Cedri, invece, si è presentata alla BIT con una formazione quantomeno incompleta e in ordine sparso. Vediamo il servizio. Istituzioni e operatori turistici della Riviera dei Cedri, in ordine sparso e a ranghi incompleti alla Borsa Internazionale del Turismo che si è chiusa ieri alla Fiera di Milano. La Quattro Giorni Milanese, che quest'anno ha totalizzato meno espositori e meno visitatori degli anni precedenti, si conferma comunque come la vetrina più importante del settore. E la Calabria ha occupato, come di consueto, una vasta area nel padiglione Italia, con i massimi vertici regionali che hanno presentato le varie componenti dell'offerta turistica del nostro territorio. Tra gli enti presenti alla BIT si sono notati soprattutto, per quanto riguarda la Riviera dei Cedri, il comune di Belvedere e quello di Diamante. Altri enti, come i comuni di Fuscaldo e di Cittadella del Capo, il consorzio Vallelao e la comunità montana, hanno preferito una presenza congiunta assieme agli operatori privati, ad unirli il progetto Ai Confini del Gusto, un primo tentativo di promozione attraverso un unico stand e un unico catalogo su carta e su DVD. Uno stand autonomo è stato utilizzato anche da Ecotour, il consorzio di recente costituzione che raggruppa gli albergatori della Riviera dei Cedri di Scalea, mentre Policastrum Viaggi ha presentato la sua offerta in una vasta area del padiglione dei Tour Operator. I più dinamici hanno anche partecipato alle iniziative mirate all'incontro tra gli operatori, a cominciare dal BIT. Molte le iniziative promozionali, promosse sia dalla regione sia dai singoli espositori. Il Gusto resta sicuramente il filone più seguito per tentare di caratterizzare un'offerta in alternativa al mare, che resta comunque l'elemento distintivo del turismo in Calabria. Per questo si è notato un proliferare di offerte e di assaggi, soprattutto nei giorni sabato e domenica, tradizionalmente dedicati ai visitatori individuali e ai privati. Tra le presenze consolidate, quella di sua maestà il peperoncino, che negli anni è diventato quasi il marchio distintivo e simbolico del turismo diamantese. Ma non sono mancati altri sapori calabresi, anche di più recente affermazione. Il cedro, per esempio, per la prima volta offerto candito in una inedita confezione e assaggio, è il mirto dell'isola di Dino, alla sua prima malusinghiera apparizione fuori dai confini regionali. A chiudere l'evento sostanzialmente resta l'amarezza per gli enti che invece non hanno partecipato. E' soddisfazione è stata espressa dall'amministratore della società Isola di Dino Club, Matteo Cassiano, per l'interesse che il liquore e i biscotti al mirto hanno riscosso tra i visitatori della BIT. Il mirto dell'isola, spiega Cassiano in una nota, oltre ad essere particolare per le sue eccellenti ed uniche proprietà, è un'altra pregiata e importante risorsa che l'isola di Dino offre per la sua promozione a livello internazionale. Diverse centinaia di visitatori infatti hanno potuto apprezzare gli assaggi di liquore e di biscotti a base di mirto offerti dall'isola di Dino Club. E sempre alla BIT di Milano, il governatore della regione Calabria Scopellitti ha presentato il rapporto sul turismo in Calabria nel 2010. Il rapporto evidenzia, secondo il presidente della regione, finalmente una leggera inversione di tendenza. Vediamo il servizio che ha realizzato Andrea Polizzo. Un milione e mezzo di turisti per un totale di oltre 8 milioni di pernottamenti prevalentemente sulle coste. E' questo il ritratto del turismo in Calabria, tratteggiato per il 2010 dall'apposito rapporto annuale esposto dal presidente Scopellitti alla BIT di Milano. Il governatore calabrese vede all'orizzonte un 2011 che segnerà la graduale ripresa del settore, un incremento tra il 2 ed il 3%, dati questi in controtendenza con la crisi registrata a partire dal 2008. Quanto alle cifre snocciolate da Scopellitti nel rapporto, la distribuzione delle presenze vede la netta e scontata prevalenza dell'area mare, ben il 91%, rispetto alla montagna che si assesta a quota 3. Un dato basso che però vede il top proprio nella provincia di Cosenza, dove le presenze montane sfiorano quota 10% e quelle delle aree interne il 6. Nel Cosentino inoltre la quota più consistente dell'offerta ricettiva, il 40% di esercizi ed il 44% dei posti letto regionali. Tornando ai dati regionali, le curve della stagionalità degli ultimi tre anni sono molto simili e rilevano una sostanziale stabilità principalmente del mese di agosto in cui si registrano circa 3 milioni di pernottamenti corrispondenti al 35% dell'intero 2010. Nei mesi centrali dell'anno, quelli da giugno a settembre, la stagionalità si attenua di mezzo punto percentuale, da 82% a 81,5%, causando una diminuzione dei pernottamenti nei mesi di giugno e di settembre del 2010. Ma è il dato sui posti letto distribuiti sulle coste che conferma la tendenza marinara della regione. Quasi il 90% dell'offerta, pari a 23.584 letti, è qui che si concentra. Secondo il rapporto, inoltre, stanno nascendo nuove strutture alberghiere di grandi dimensioni, di migliore qualità. Aumentano infatti le strutture di 4 e 5 stelle, mentre chiudono o vengono riqualificate quelle di bassa categoria. In Calabria, infine, nel 2010, il valore aggiunto attivato direttamente e indirettamente dalla spesa turistica è stimato inoltre un miliardo e mezzo di euro, pari al 5,9% del valore aggiunto regionale. Sono disponibili 400 milioni di euro per progetti di sviluppo locale. A comunicarlo è l'assessore regionale al bilancio, Giacomo Mancini, che da giovedì prossimo terrà incontri con gli amministratori locali di tutte le province calabresi per illustrare in dettaglio le opportunità offerte dal piano integrato di sviluppo locale e per ascoltare le esigenze dei singoli comuni. La regione, è detto in un comunicato di Mancini, attribuisce rilevante importanza a questo incontro perché al termine delle cinque manifestazioni provinciali l'assessorato deciderà come utilizzare i circa 400 milioni di euro di fondi comunitari destinati alla crescita dei territori calabresi. Andiamo a Praia Mare perché si è tenuto oggi il Consiglio Comunale. Tra l'altro si è discusso di terreni la cui titolarità è contesa tra Praia e Tortora. Tra le altre questioni poste all'ordine del giorno anche regolamenti e mutui. Vediamo il servizio. Terreni contesi tra i comuni di Tortora e Praia Mare. Alcune zone di montagna, infatti, pare per un errore burocratico, risultano nel territorio praiese. Ora Tortora ne chiede la restituzione. Se ne è discusso questa mattina nel corso del Consiglio Comunale a Praia Mare. L'ente Tortorese, dopo una verifica al Catasto, ha riscontrato l'assegnazione al Comune di Praia di alcune aree demaniali, di fatto ricadenti sul proprio territorio. Nulla di più di una disfunzione burocratica, informano fonti vicine ai due municipi, dettata dal passaggio al sistema Catastale Unico. Nel corso della seduta, votazione favorevole al nulla osta per la rettifica dell'intestazione dei terreni. Ora dunque, il Comune di Tortora potrà avanzare la richiesta di rettifica all'Agenzia del territorio di Cosenza. Sempre nel corso della seduta, il Consiglio Comunale ha discusso dell'ex mercato coperto, pronto mutuo di 500.000 euro per lavori di riqualificazione dell'area. Infine, aspra contestazione dal gruppo di minoranza Praia Città d'Europa, capeggiato dal consigliere Antonio Praticò, a proposito delle modifiche approvate al regolamento per l'accesso agli atti. Le modifiche approvate oggi, ha infatti detto Praticò, non sono in linea con quando indicato dal Tribunale amministrativo e proseguono sulla linea ostruzionistica di questa amministrazione. Il gruppo Praia Città d'Europa, per questo motivo, ha abbandonato la seduta al momento del voto, in aperta polemica con l'amministrazione Lomonaco. La bozza del regolamento discusso stamane in Consiglio era infatti frutto di un ricorso al TAR dell'opposizione, per chiedere l'annullamento di quello precedente. Oggi dunque la votazione per recepire quando disposto dal Tribunale amministrativo regionale. L'assessorato provinciale all'urbanistica della provincia di Cosenza ha rinviato al 7 marzo qualsiasi parere in merito alla questione dell'impianto di trattamento rifiuti di San Sago, località del comune di Tortora, posta nella Valle del Noce. La decisione è scaturita oggi, dopo tre ore di seduta, della conferenza dei servizi, tenutasi proprio nella sede della provincia di Cosenza. E' convocata per esaminare gli ampliamenti e le modificazioni strutturali chieste dalla Ecologica 2008 sulla società proprietaria dell'impianto. I sindaci di quattro comuni del Tireno Cosentino hanno chiesto l'intervento del presidente della regione Scopellitti a favore della clinica Tricarico di Belvedere. A sottoscrivere la richiesta Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, Enrico Granata, sindaco di Belvedere, Antonio Mollo.